In provincia di Teramo entra nel vivo la campagna di vaccinazione per le persone fragili. A Roseto degli Abruzzi da oggi fino a sabato sono 2720 cittadini prenotati e rientranti nella categoria dei fragili che si dovranno recare presso il villaggio Lido d'Abruzzo per la somministrazione della prima dose. Un'altra operazione che conto di portare a termine con ordine come è stato fatto per gli anziani grazie al contributo di magnifici operatori della ASA di Teramo, grazie ai volontari, grazie ai miei dipendenti che si stanno impegnando per uno svolgimento ordinato di queste operazioni. Roseto ha oltre 26.000 abitanti e quindi questa categoria dalla piattaforma regionale, quando ci hanno mandato l'estratto, si è rivelata molto numerosa. Faremo la prima dose nel sito del villaggio Lido d'Abruzzo, per la seconda dose poi si vedrà perché il villaggio ha necessità di riaprire per l'attività ordinaria e quindi noi andremo in un altro sito che sto già individuando e che potrà servire anche per la vaccinazione cosiddetta di massa a disposizione dei medici di famiglia e a disposizione dei rosetani. Sindaco, quanto lavoro c'è dietro l'organizzazione di un evento così grande? C'è la sottrazione di moltissimi dipendenti comunali alle ordinarie attività di ufficio e intendiamo noi sindaci qui del comprensorio di Roseto, del circondario, rappresentare alla ASL che comunque bisognerà trovare un sistema alternativo che non ci sottragga questi dipendenti. I comuni sono notoriamente in sofferenza di personale e non siamo in grado di continuare ad assicurare questa collaborazione così numerosa. Quindi a disposizione della ASL per trovare dei locali, dei siti a nostro carico, allestirli, ma la ASL dovrebbe sollevarci dall'onere di organizzare le chiamate perché richiede giorni e giorni di impegno ai nostri dipendenti e non li possiamo distogliere. Se a Roseto la vaccinazione si concluderà sabato, Giulianova partirà proprio il 10 aprile, quando sarà somministrata la prima dose di vaccino ai primi 1.250 cittadini giuliesi. Mentre al via da domani la vaccinazione delle persone fragili nella città di Teramo, le somministrazioni pianificate dalla ASL di concerto col comune proseguiranno anche venerdì, domenica e nel corso di altre due giornate della prossima settimana.